Lunedì 6 dicembre, altra data di svolta nella telenovela che dura da due anni sulle misure di contenimento della pandemia. 6 dicembre, data in cui è entrato in vigore il Super Green Pass. Anche nelle marche, come nel resto d'Italia, da oggi infatti esiste una certificazione verde base, cioè quella ottenuta senza vaccino ma con un periodico tampone negativo, ed entra anche in vigore una certificazione verde rafforzata solo per chi è vaccinato o guarito dal Covid-19. Tradotto, da oggi si accede ad alcuni servizi solo col Green Pass rinforzato, ovvero solo se si è vaccinati. È così per sedersi al tavolo di ristoranti o bar al chiuso, è così per accedere a discoteche, stadi, palasport, cinema, teatri o cerimonie pubbliche. È invece sufficiente il Green Pass base per recarsi nel proprio luogo di lavoro, a scuola, all'università, per accedere al trasporto pubblico, alle mense aziendali, per andare in albergo, in piscina, palestra o per visitare mostre e musei. Non serve invece nessuna certificazione per ristoranti e bar con tavoli all'aperto o per accedere a negozi e supermercati. Va ricordato che chi è già vaccinato non deve scaricare nessun nuovo Green Pass, ma la vecchia certificazione verde si trasformerà in automatico in verde rafforzato. Da oggi, lunedì 6 dicembre, non scatta solo la nuova normativa in termini di Super Green Pass, ma ci sono anche altri accorgimenti. Tra questi, uno dei più delicati è l'accesso al trasporto pubblico scolastico tramite il Green Pass base allargato dai 12 anni in su. Ciò significa che anche i minorenni tra i 12 e i 18 anni dovranno essere o vaccinati o presentarsi al trasporto scolastico, ovvero all'autobus, muniti almeno di un tampone negativo. Si tratta di una novità di maggiore rigore in una delle fasce anagrafiche in cui il virus sta circolando con più insistenza, ma si tratta anche di una ulteriore criticità che va ad aggiungersi ad un settore come quello del trasporto scolastico già particolarmente sensibile. E' dunque partita oggi anche una complessa macchina di controlli a campione. La polizia può controllare chi sale sul bus dove, se qualche scolaro viene trovato senza Green Pass, rischia una multa che va da 400 a 1000 euro. L'effetto di questi ultimi provvedimenti è già quello di una nuova forte spinta alle vaccinazioni con prenotazioni e accessi agli hub praticamente raddoppiati in una settimana.